Dottoressa, buonasera. Buonasera. Tutto bene? Sì, tutto bene. Stasera non sono venuto a chiedere le medicine a me. Ah, beh, sono venuto a chiedere un favore a lei, dottoressa. E, gentilmente, se mi può prescrivere un sonnifero per mia suocera. Ah, per caso, sua suocera soffre l'insonnia? No, mia suocera la notte dorme benissimo. Il sonnifero è per il giorno, capito? Perché in mezzo a parlare, palla, 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 c'è la palla, cioè, ci diamo il sonnifero e la stanca, capito? No, vabbè, non so scherzare, se me lo può prescrivere, dottoressa. Nei, la mola sta bene, la mia sforza sta rendendo la prese. Scusa, vabbè, abattù. Scusa, vabbè, l'abbè, l'abbè.